Nei pressi di Canne della Battaglia, in località Fontanelle, scavi condotti tra il 1937 e il 1939 misero in luce un sepolcreto con tombe in parte scavate nella terra, circa mezzo migliaio, in parte costruite in pietra contenenti resti umani che solo in rarissimi casi però erano accompagnati da corredo funebre. In un primo momento si credette che in questo sepolcreto avessero trovato estremo riposo i caduti della famosa Battaglia di Canne del 216 a.C. Oggi invece è certo che si tratti di un sepolcreto cristiano medievale, tra l'altro vi sono sepolti anche dei bambini. Probabilmente il cimitero dell'abitato medievale di cui rimangono i suggestivi resti, a qualche distanza, sulla collina che costituisce l'ultimo contraforte delle murge, in una località abitata fin dall'età preistorica. Inoltre anche nel luogo del sepolcreto vi fu un abitato, un villaggio apulo risalente al periodo tra 600 e 300 a.C. e vari elementi sembrano indicare la presenza di insediamenti dell'età eneolitica, in epoca di gran lunga più antica, anche qui.